ti mangi sta cosa ma che schifo dai ma che è mortadella guanciale ma che è ma che cazzo è metto il rigido ma che è ma seriamente facciamo ma come mi viene in mente a fare una cosa del genere oh atma fratma oh mi sento simpatico si problemi vabbè